Musica Buonasera gentili telespettatori, un cordiale saluto dal quotidiano appuntamento informativo con On Air News che apriamo con la pagina della cronaca. 11 persone appartenenti a 4 nuclei familiari sono state evacuate da uno stabile dell'Erap in via Marchetti ad Ancona per il rischio di un crollo del tetto dopo alcuni scricchioli avvertiti da un inquilino, il quale ha notato che le travi di legno di sostegno erano piegate ed ammalorate a causa di infiltrazioni d'acqua. Dopo dei sopralluoghi di alcuni tecnici le puntellature hanno cominciato ad incurvarsi e l'amministratore del condominio ha chiamato i vigili del fuoco che hanno chiuso l'edificio inagibile. Sul luogo ieri anche l'assessore del comune di Ancona Stefano Foresi e persone evacuate hanno trascorso la notte in albergo. Una voragine si è aperta nel giardino all'interno di uno stabile in via Saffia d'Urbino di proprietà della Curia dove era al lavoro un bobcat guidato da un operaio. Il mezzo è sprofondato in un vano sotterrano da un'altezza di 6 metri e l'uomo è rimasto ferito. E' stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con una sospetta frattura alle costole. Il caso delle casette per i terremotati. Molto rumore ed è stato un servizio televisivo delle Iene. Sentiamo alcuni dettagli. Non solo indignazione ma anche sconcerto oltre ad una comprensibile arrabbiatura. Il servizio delle Iene andato in onda ieri sera relativo alle casette dei terremotati ha riscoperto qualche altarino. L'inviata Roberta Resi, anzitutto occupata dei pannelli marci, li montavano già ammuffiti, ha detto un operaio, fino ad un sistema di pagamento tramite carte ricaricabili a dir poco inquietante. Per ricevere il compenso ogni operaio doveva avere due carte ricaricabili. In una veniva caricato lo stipendio, nell'altra gli straordinari. Gli operai raccontano di aver visto cifre altissime che nulla centravano con gli straordinari stessi. Nel servizio si parla di cifre che vanno dai 15.000 ai 60.000 euro, che venivano prelevate al nord e si ipotizzano tentativi di riciclaggio. La procura di Macerata sta indagando sulle condizioni dei lavoratori. Uno di loro ha detto a Roberta Resi che nessuno di noi ha mai avuto il casco o i guanti ed eravamo pagati in nero. Anche su questo sta indagando la procura. La Resi è andata a chiedere conto proprio al presidente del Consorzio Arcale, che si è trincerato dietro un chiedo scusa ai terremotati, mentre l'assessore regionale Sciapichetti si è limitato a dire che non risponde agli agguati. Intanto i terremotati dichiarano di essere sballottati a destra e manca. Qualcuno è dovuto ritornare in albergo. Il calvario per loro sembra davvero non avere mai fine ad oltre due anni dal sisma. Ancora alcune brevi di cronaca. Una 24enne di origine romena con il fermo proposito di togliersi la vita si era gettata nelle acque dell'area portuale di Civitanova Marche davanti ai cantieri navali. È stata messa in salvo da due pescatori nordafricani che stavano lavorando nei pressi e che sono riusciti nel loro intento anche perché l'acqua nella zona è piuttosto bassa. Sul posto sono immediatamente giunti un'ambulanza della Croce Verde e la polizia. I vigili del fuoco in azione anche ad Ancona in via Lodola per una fuga di gas. Uno smottamento del terreno ha causato la rottura della tubazione di media pressione del gas metano lungo la strada. I vigili del fuoco hanno delimitato l'area e hanno atteso l'intervento dei tecnici di multiservizi per la riparazione della condotta. Non risultano comunque persone coinvolte. Cambiamo argomento incontro sullo stato di attuazione del POR-FES, le marche in vetta tra le regioni italiane per l'ammontare certificato con oltre 47 milioni di euro di pagamenti. L'intervista con l'assessora alle politiche comunitari Manuela Bora. Quasi due mesi dal cosiddetto NP3, cioè la prima verifica perentoria sullo stato di avanzamento della politica comunitaria marchigiana, abbiamo non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci è stato dato da Bruxelles. Ad oggi oltre il 66% delle risorse hanno un nome e cognome, ma siamo anche tra le prime regioni ad essere partiti con quelle che sono le risorse straordinarie del sisma. Per cui il risultato di cui dobbiamo congratularci non solo per aver fatto bene i compiti a casa, ma anche per come abbiamo speso le risorse. Domani al forum del partenariato presenteremo proprio anche una descrizione dei progetti che sono stati finanziati avuto riguardo anche all'incremento occupazionale realizzato. Esattamente il percorso all'inizio perché queste risorse sono disponibili da marzo 2018, eppure i primi bandi che sono usciti hanno una dotazione in totale di 30 milioni di euro, ma ciò che vorrei sottolineare maggiormente è che il primo bando, quello per gli investimenti produttivi, in cinque giorni si è concluso con 235 progetti presentati. A fronte di una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, i progetti che sono pervenuti realizzerebbero complessivamente oltre 171 milioni di investimenti per un contributo pubblico di circa 56 milioni di euro, quindi abbiamo più che quintuplicato le risorse che avevamo stanziato inizialmente, realizzando un'occupazione di circa 800 unità aggiuntive. Quindi un territorio che ha tanta voglia di ripartire, è una regione che sa dare le risposte che il territorio chiede. 3.000 studenti provenienti da tutta la regione sono pronti ad invadere la mole vanviteliana, dove domani prendere il via la Kermes Futura Ancona, Adriatico 4.0, tappa dorica della manifestazione nazionale, pensata dal MIUR per fare il punto sul progetto Scuola Digitale, un appuntamento di tre giorni organizzato dal Volterre Eliai in collaborazione con l'Istituto Superiore Savoia Benincasa, che vede l'incontro tra il mondo della formazione, il territorio, le sue imprese ed i distretti produttivi, in particolare del settore marittimo. La cosiddetta Blue Economy sarà protagonista anche grazie alla partecipazione straordinaria tramite collegamento telefonico di Giovanni Soldini, il più grande velista italiano. Oggi è la giornata mondiale contro il diabete ed oltre 200 farmacie marchigiane scendono in campo sino a domenica per offrire uno screening ai propri clienti e dare preziosi suggerimenti. Nella nostra regione più di 75.000 persone hanno dichiarato di soffrire di questa patologia. Ieri la presentazione dell'iniziativa nel corso di una conferenza stampa. Sentiamo il presidente della regione, Luca Ceriscioli. Una settimana dedicata al cittadino che potrà gratuitamente fare un'attività di screening in oltre 200 farmacie delle marche per il diabete. Gli avete una malattia importante, cronica, colpisce una fetta significativa alla popolazione marchigiana, circa il 5% dei marchigiani ne sono affetti, ma c'è ancora una quota di popolazione che ha la malattia oppure un borderline rispetto alla malattia, ma non lo sa. Fare questo passaggio gratuito in farmacia significa poter scoprire di avere le necessità che prima vanno affrontate meglio. Come tutte le malattie, se gestita correttamente viene ridotto il danno, l'impatto sulla salute, se non gestita bene sfocia in momenti di acuzie, quindi ricovero ospedalieri e problemi importanti. Il diabete sistemico colpisce tante parti del nostro organismo, dal cuore alla circolazione in generale, gli occhi, quindi ha bisogno di essere attenzionato. Grazie a questo contributo che le farmacie danno alla nostra comunità, molti potranno evitare il peggio. L'invito è proprio quello a partecipare allo screening e approfittare di questa occasione. In generale si sta rafforzando, sta crescendo il numero di ricette demetralizzate che i medici in medicina generale e gli altri medici stanno producendo, ancora il numero è basso, sta crescendo, stiamo esistendo molto perché attraverso la DEMA sarà possibile anche questo tipo di attività in farmacia. E siamo allo sport, capriamo con il calcio, dandovi anzitutto appuntamento alla diretta di stasera dalle 20.50 sul Canale 11 con le Marche nel Pallone, dove vi proporremo i risultati di servizi sul turno infrasettimanale di oggi del campionato di Serie D, come sempre con ospiti in studio. In Serie C resse note le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di domenica, che prevede il derby marchigiano Fermana-Fano, che sarà diretto da Pasciuta di Agrigento, San Benedettese e Ferralpi-Salò invece da Anna Loro di Collegna e su Tirol-Vispesero da Giordano di Enna. Adesso ci occupiamo invece delle due gare che la nazionale Under-19 disputerà venerdì e lunedì a Recanati. Il Nicola Tubaldi quindi torna a tingersi d'Azzurro e per presentare questi due importanti appuntamenti che si preannunciano anche di buona qualità tecnica abbiamo sentito il sindaco Francesco Fiordomo. Venerdì alle 11 Italia-Ungheria, lunedì alle 14.30 Italia-Slovacchia. Recanati torna a tingersi d'Azzurro e il sindaco Francesco Fiordomo è anzitutto un grande motivo di orgoglio da parte anche dell'amministrazione comunale. Sicuramente, è già la terza volta che una nazionale azzurra in poco tempo viene qui a Recanati. Abbiamo iniziato con l'Under-16 Italia-Germania, è stato un debutto assoluto per la maglia azzurra qui a Recanati che abbiamo dedicato al grande Peppe Farina. Poi la seconda presenza, questa volta un Under-19 Italia-Serbia ed ora questa doppia amichevole internazionale. Motivo di orgoglio per il Comune di Recanati, per l'Unione Sportiva Recanatese. Penso che sia anche il riconoscimento della crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni, l'attività giovanile, questo impianto, lo Stadio Tubaldi che è andato sempre più a migliorarsi, il sintetico, l'illuminazione al LED, nuovi spogliatoi, il fotovoltaico, insomma il Centro Federale che è arrivato qui a Recanati, una serie di progetti realizzati che ci hanno accreditato a livello nazionale. Sarà una festa, venerdì ci saranno anche le scuole, ingresso gratuito per tutti, quindi veramente un invito anche al pubblico. Sì, una festa, già centinaia di prenotazioni da parte delle scuole di Recanati e non solo, verranno da Camerino, da San Benedetto, da altre località, ci saranno i ragazzi del Centro Federale, quando c'è l'Italia, quando c'è la Maglia Azzurra è sempre una grande festa, una festa che speriamo anche dia nuovo slancio e nuova energia alle nazionali che vivono un momento di difficoltà, mi riferisco soprattutto alla nazionale maggiore che in qualche modo questo clima di amicizia, di freschezza che ci porta ai vivai, al settore giovanile siano un po' un impulso per il nostro calcio che possa ritrovare anche quella semplicità e quella sobrietà che purtroppo negli ultimi anni abbiamo perso. E ricordando anche quanto si è visto tre anni fa, lo spettacolo dovrebbe essere sicuramente di buon livello. Sì, ci sono dei ragazzi già nel giro delle squadre più importanti, di alcuni si dice un gran bene in proiezione futura, è chiaro che quando parliamo di Under-19 parliamo di calciatori che oramai possono avere una prospettiva. C'è interesse anche per le altre nazionali, tutti qui a Recanati ricordano il rigore della Germania con i ragazzi tedeschi che pulirono lo spogliatoio al termine della partita dimostrando una maturità ed una educazione davvero importanti. Quindi si tratta anche di uno spettacolo dal punto di vista tecnico e qualitativo sicuramente di livello. Basket, la poderosa Monte Granaro comunica che la partita Baltur 100 XL Extra Light in programma per domenica 2 dicembre alle ore 18 è stata posticipata di comune accordo tra le due società a mercoledì 5 dicembre alle 21. Lo spostamento della partita era stato richiesto proprio dalla poderosa per l'assenza di Kaspar Treyer impegnato con la Nazionale dell'Estonia nelle qualificazioni mondiali di Cina 2019. E vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 15 novembre. Per te che sei sempre alla ricerca. Per te che la felicità è sentirsi dire ti aspetto a casa. Moplan Arredamenti è per te con i suoi 5.000 m2 di esposizione di cucine, living, camere, arredobagno, centro specializzato materassi, grandi marchi, prezzi speciali, interior designer a disposizione e servizi altamente qualificati di falegnameria interna, trasporto e montaggio. Moplan Arredamenti, Castelplanio, Ancona. Ci vediamo a casa. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento. Previsioni per giovedì 15 novembre. Al centro sarà bel tempo ovunque, con tanto sole e cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, sui settori peninsulari ma anche sulla Sardegna. Non sono attese precipitazioni. Concludiamo infine con le temperature che saranno in lieve calo. Le minime saranno comprese tra 3 e 15 gradi. E fine settimana anche con la dodicesima edizione del Rally delle Marche a Cingoli. La gara con il rinvio del Rally Val d'Orcia è di fatto diventata la prima prova del Challenge Race Day Rally Terra 2018-2019, proponendo 73 iscritti, andando a dare ulteriore conferma della già da tempo certezza che il balcone delle Marche è riferimento concreto nazionale delle corse su strada bianca. In Italia arrivo e premiazioni domenica pomeriggio attorno alle 16. E con questo è tutto. Vi ringrazio per la cortesa attenzione. Appuntamento a domani.